Siamo Margherita e oggi vi voglio dimostrare come una persona non vedente può interagire con un bambino vedente mostrandogli un libro. Adesso lo facciamo con la mia nipotina. Vediamo insieme il libro La Pimpa. Tu sai chi è La Pimpa? Sì. Chi è La Pimpa? Un cane. È un cane. Ora guardiamo insieme questo libro. Allora, La Pimpa è gialla come il sole. La Pimpa è grigia come il... Il topo. Esatto. La Pimpa è... Azzurra. Come il... Mare. Mare. La Pimpa è rosa come... La rosa. Brava. La Pimpa è... Marrone. Come la... Soccolata. Buona. E poi ancora la Pimpa è... Verde. Verde. Come? Oh, Gia si è saccatucco. Non ti preoccupare, dopo lo riattacchiamo. Ok. Eh, Gia si è saccatucco. Il mio figlio. Va bene, non fa niente. Ok. Come? Questa che cos'è? È una noccia. Come una rana. La Pimpa è... Rossa. Come una... Mh. Queste cosa sono? Le C? Ciliegie. E a te li piacciono? Sì. E così abbiamo finito e vi abbiamo dimostrato come una persona non vedente può far vedere un libro a un bambino vedente. Grazie.